Musica Sicuramente abbiamo fatto qualcosa di secondo me normale, siamo una squadra che è convinta dei propri mezzi, con la nostra umiltà, se continuiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti. Dove arriva la mano di Grassadoni e dove arriva la forza del gruppo, come amate sottolineare se ho posto su Facebook? La mano di Grassadoni è sicuramente il lavoro di tutti, da Fusco al preparatore al messaggiatore a tutti quanti, siamo tutti un gruppo unito, sicuramente il mister riesce a metterci nelle condizioni e ad avere la giusta competitività per allenarsi al massimo, alzare il livello in allenamento e sicuramente andare in partita al 100%. Sicuramente fin dal primo giorno che io sono arrivato ho visto un gruppo forte, un gruppo composto da sia giovani che diciamo chiamiamo vecchi, come ad esempio Carcione, Marrocco, Bocchetti, che sicuramente creano la giusta tensione, la giusta concentrazione per non montarci la testa e tenere sempre i piedi per terra. Grazie a tutti!